Formazione di arbitri, assistenti ed osservatori a Filignano in corso di svolgimento una tre giorni che prevede un raduno dei fischietti molisani organizzato e gestito dal CRA, ovvero il Comitato Regionale. A Filignano in corso di svolgimento il raduno regionale di arbitri, assistenti ed osservatori. Ad una settimana dall'inizio dei campionati regionali l'appuntamento improntato alla formazione organizzato e gestito dal CRA, Comitato Regionale Arbitri. Fitto il programma della tre giorni all'insegna di lezioni e visione video in aula, alternate a prove atletiche ed allenamenti specifici. Su rilevanza del raduno, panoramiche e prospettive del movimento arbitrale molisano, l'intervista al presidente del CRA Molise, Alessandro Petrella. Questi raduni sono fondamentali perché ci permettono di recepire intanto le modifiche regolamentari che ogni anno vengono promosse dall'IFAB. In realtà quest'anno le modifiche sono veramente poche, visto che l'anno scorso il regolamento era già stato modificato sostanzialmente quasi nella sua integralità. I nostri arbitri durante questi stagi di aggiornamento si preparano quindi sul regolamento, ma soprattutto attenzione viene data alla parte atletica. Gli arbitri ormai sono arrivati alla fine della preparazione atletica, questo è il momento di verificare la loro forma fisica ed atletica affinché siano pronti per poter entrare nelle batterie di designazione già dalle prossime settimane. Gli arbitri molisani si difendono benissimo a livello nazionale, tant'è che rappresentiamo ormai arbitri quasi in tutte le categorie. Gli ultimi esordici sono stati con Antonello Balice in Serie B proprio la settimana scorsa, Maurizio De Troia che si è ben confermato come assistente in Serie B, ma poi abbiamo Luca Massimi in Lega Pro, tantissimi assistenti ancora in Lega Pro. Senza dimenticare la nostra punta di diamante che è Gianni Matticoli, che ha arbitrato alle Bamas qualche settimana fa alla finale del Mondialito. La qualità degli arbitri molisani è ben nota alla dirigenza arbitrale a livello nazionale, i nostri arbitri fanno benissimo e ci rappresentano, come già ti dicevo, un po' in tutte le categorie a livello nazionale. Non dimentichiamo il calcio a 5, la Serie D, la CAI. Ogni anno riusciamo a, per così dire, rimpolpare queste categorie con associati dalla nostra regione. Quando il Molise avrà un suo arbitro di Serie A? Beh, speriamo presto. Io sono uscito dalla Serie A un paio d'anni fa come assistente e speriamo che i nostri ragazzi che adesso se la stanno giocando e si stanno difendendo e stanno prendendo, diciamo, le misure della Serie B possano molto presto, facciamogli i dovuti scongiuri, arrivare nella massima Serie Nazionale. Cosa ne pensa? Qual è la sua opinione su questa novità rivoluzionaria del VAR? Tutte le novità rivoluzionarie devono essere messe in pratica, quindi hanno un tempo tecnico per poter essere applicate, recepite e poi per poterne valutare la validità. Non dimentichiamo che la VAR viene applicata in Italia, ma l'Italia è tra i pochissimi paesi che utilizzano nel massimo campionato il Video Assistant Referi. L'obiettivo è proprio quello di valutarne l'efficacia durante un arco medio-lungo che è quello di un campionato per poter poi eventualmente capirne le criticità ed estenderla anche alle altre federazioni nazionali. Ritengo che come tutte le modifiche ed aggiornamenti in questo senso sia assolutamente utilissima.